ok faticosissimo allora io teoricamente non so cosa sto facendo io teoricamente in questo momento mi sto registrando con tre dispositivi almeno penso penso di sì purtroppo la mia bellissima persona ha dimenticato di registrare con l'altro dispositivo quindi beccatevi questa clip fatta con la telecamera portatile guardatemi guardatemi perché mi sto registrando con tre dispositivi adesso lo vedremo blocchiamo questo questa la lasciamo accesa lasciamola qui perché adesso mangeremo questa una crostatina guarda guardate 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 finimola tutta in un boccone allora la ripresa che mi avete visto fare con questo essendo questo un telefono del 2012 ha una qualità che avevano le videocamere telefoni del 2012 una 5 megapixel credo sia penso sia hd penso sia un 720 pixel questa videocamera microfono ha una sd da 4 giga c'è il microfono qua che è abbastanza potente perché riesce a prendere i suoni a raggio di mi sembra 60 metri 16 metri ha modalità notturna audio video e on off io faccio off qualità questa è 1880 1080p 1080 quindi hd si hd a 30 fps mi sembra sì questa invece arriva fino a full hd la videocamera full hd no full hd quella anteriore quella davanti e anche quella full hd ma i video le si